Chiediamo che i truffatori, coloro che non hanno rispettato le regole, leggi dello Stato, che non hanno pagato le quote latte, oggi non vengono ulteriormente sanati. Quei soldi devono andare a copertura delle famiglie terremotate. I familiari dei terremotati dell'Aquila, i terremotati che sono qui nella capitale in queste ore, debbono avere un segnale di onestà e di rispetto delle leggi da parte dello Stato. No al salva truffatori per le quote latte, sì alla solidarietà verso l'Aquila.